ah ceccarini oh vieni stelio com'è tutto a posto l'ha messa la marmita catalitia l'ha fatto erbollino blu ma sei scemo ti ho messo un segreto guarda che è un pandino del 75 se ti beccano sono cazzi te lo dico io ah si ed è perché qua mi fanno perché ti fanno un ber 66 e 60 euro boia di bu di julio per davvero e te te l'ho mai sgamato boia mi hanno sequestrato anche il libretto capito non solo la contravvenzione boia ma hanno beccato anche il motorino l'altro giorno in due senza appello vero o quel travaso lì cos'è è una figlia o ti ci hanno rigozzato accanto di parecato io mi vergognerei anche a fargli vedere il culo per davvero cisi ma si va che si è fatta un'ora simpatio il tuo amico eh